purtroppo con l'attualità della guerra in ucraina ci siamo riabituati a vedere scene di sanguinamenti di feriti che cosa può fare un medico un paramedico ma anche un civile per intervenire tempestivamente fare delle tecniche di pronto soccorso allora sì drammaticamente ci stiamo riabituando che è bruttissimo perché abituarsi alla scena del genere è veramente lancinante quello che un medico un paramedico ma anche un semplice civile può fare è approfondire quello che sono appunto le tecniche primo intervento in caso di emorragia massiva ovvero sia seguire un corso di controllo delle emorragie e poi logicamente diffonderlo il più possibile non è una cosa difficile lo possono fare veramente tutti tant'è che la stessa televisione ucraina ha mandato in onda video su come si attuano queste queste tecniche e partiamo dal presupposto che la prima cosa sarebbe una compressione diretta sulla ferita stessa per poi passare eventualmente ad altri livelli e arrivare infine a quello che è poi l'oggetto principe della garanzia di aver controllato un'emorragia del genere questo sia il turnichè questi servizi video stanno puntando appunto sul turnichè perché questo perché l'unico strumento l'unico dispositivo che ci può permettere di garantirci di riuscire a fermare un'emorragia massiva emorragia massiva che in ambiente bellico ovviamente al 90 per cento è dato in seguito a deflagrazioni a colpi d'arma da fuoco e dove anche la necessità di un intervento tempestivo è fondamentale perché non abbiamo quasi mai la possibilità di portare la vittima in una struttura preparata quale possa essere effettivamente poi un pronto soccorso quindi insegnare a tutti quanti come si applica un turnichè quale condizioni quali siano le tempistiche le giuste modalità ritengo che sia veramente fondamentale